Mentre i boschi bruciano i lavoratori forestali sono a casa. Vogliamo che vengano immediatamente avviati i lavoratori settantottisti in maniera da andare a ripulire i viali parafuoco e vengano immediatamente riattivati i lavoratori centunisti e centocinquantunisti che sono stati sospesi. Vogliamo che venga cancellata la controriforma dei forestali sponsorizzata dall'assessore Cracolici perché considera il comparto forestale un peso anziché una risorsa. Vogliamo che in sua vece venga votata immediatamente il DDL 104 sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali dentro un quadro produttivo e di pubblica utilità. Io mi risento ancora una volta preso in giro perché sarei destinato a rimanere precario per tutta la vita e io non ci sto a questa presa in giro. Io voglio lavorare perché ho a casa dei figli disoccupati una figlia disabile che vuole mangiare ogni giorno.